Le tracce utilizzeremo sia delle tracce musicali, sia musica colta, musica classica, la grande orchestra, John Williams e anche Abbado, poi utilizzerò anche degli estratti musicali però da film come da per esempio Star is Born e poi un po' di sanito divertimento da cinema con delle clip tratte da Maverick per esempio, No Time to Die 007 e anche un paio di chicche, una da no body, film d'azione molto divertente, però con una traccia musicale in questo caso e poi quello che ci viene in mente, in modo da non essere sempre ripetitivi e divertirci un po' anche noi, soprattutto con un sistema così bello e divertente.